Una partita stoica della Fidelisandria che esce con un punto e un pizzico di rammarico dal Barbera di Palermo vestito a festa e i tre punti biancazzurri sfumano solo nel finale quando l'assedio rosa-nero in 11 contro 10 produce il pareggio finale che comunque vale un punto in classifica e tantissimo morale, prestazione di carattere piena di spunti buoni per la formazione guidata oggi in panchina da Nicola Di Leo dopo il pari con qualche mugugno di domenica scorsa al Degli Ulivi contro il Latina. Il Palermo grandi firme con Brunori attaccante a segno consecutivamente da otto giornate, Franco Bollato bene dalla difesa ospite in avanti al suo fianco Floriano libero di svariare molto a dettare i tempi di gioco dall'olio nel cuore del centrocampo con la sola assenza di De Rose squalificato per il gruppo di Baldini netta risalita nelle ultime settimane per la Fidelis assenza dell'ultimissimo minuto per l'attaccante Sorrentino già dato tra i titolari al suo posto Messina da scontare le pesanti assenze 18 squalificato. Di Piazza, Casoli, Benvenga, Tulli e Bortoletti tutti infortunati. Carullo avanzato al fianco di Bubas e Gaeta sulla tre quarti. Il Barbera con oltre 10.000 spettatori anche per la scelta della società di vendere i ticket d'ingresso a un solo euro prova a spingere il Palermo e Damiani subito mette i brividi alla retroquardia andriese. Ma la Fidelis è ordinata e ben messa in campo. Carullo è una spina nel fianco da sinistra. Sua la discesa che mette Gaeta nelle condizioni di calciare da ottima posizione. Sfera alta ma al diciassettesimo. Ecco la rete che sblocca il match. Bella azione da destra di Gaeta. Cross immediato al centro. Velo di Bubas che manda fuori i giri la retroquardia di casa e Messina alle sue spalle non può sbagliare e colpisce di piatto spiazzando Massolo. La bella favola di Messina che sigla la sua prima rete stagionale e la sua prima marcatura tra i pro non dovendo neanche giocare dall'inizio del match. La Fidelis controlla benissimo la gara e il Palermo fatica terribilmente a trovare spazi giusti per impensierire la retroquardia andriese. Ci prova solo alla mezz'ora dopo un'azione insistita e il tiro finale di Luperini murato dall'intervento di Nunzella. Di Leo è però costretto a effettuare un cambio a fine prima frazione perché si fa male Bubas al suo posto. Buona volontà. Nuova tegola per i biancazzurri che non rischiano però nulla sino al termine di prima frazione dagli spogliatoi. Torna in campo inevitabilmente un Palermo più arrembante dopo la strigliata di Baldini. Squadra di casa che può approfittare anche di una decisione del direttore di gara arrivata dopo qualche secondo di riflessione e molto contestata dai biancazzurri. Dopo sette minuti di gioco Brunori da sinistra crossa in area di rigore con l'intervento di Rigio che tocca il pallone con un fianco. Per l'arbitro però è rigore per un presunto tocco con il braccio. Dal dischetto si presenta Floriano, ma Saracco è bravissimo a respingere il tiro intuendo la traiettoria. L'estremo difensore andriese, sempre più protagonista di una Fidelis che si chiude a Riccio e soffre pochissimo nonostante la spinta di casa. Anzi i biancazzurri hanno l'occasionissima per chiudere i conti al diciassettesimo quando sulle sviluppi di un corner di Urso è buona volontà a toccare la posizione ravvicinata di un soffio sul fondo. Al trentaquattresimo poi altro episodio tutto da rivedere quando la Fidelis era in controllo della partita. Nunzella ferma con le cattive felice per il direttore di gara e secondo giallo per il capitano biancazzurro. Fidelis in dieci e il Palermo si riversa in avanti. Il neo entrato Soleri ci prova in mezza rovesciata, palla alta da pochi passi. Brunori tiro dal limite basso e potente sul fondo al quarantesimo e poi parità sugli sviluppi dell'ennesimo. Calcio d'angolo della ripresa per i padroni di casa saranno 15. Alla fine Luperini anticipa l'attenta difesa biancazzurra e beffa il disperato tentativo di intervento di Saracco. Il gol rianima il rosanero con Saracco che diventa monumentale sul tocco fortuito ma ravvicinato di Soleri. Le manone dell'estremo difensore ospite per portare a casa un punto utile per la classifica ma come detto soprattutto per il morale davanti agli oltre 60 tifosi Fidelis giunti sino a Palermo per il turno infrasettimanale Messina leggermente più vicino e domenica al Degli Olivi arriverà uno scontro diretto contro la Paganese.